Ciao a tutti ragazzi e bentornati su TheRoom Questo è il secondo episodio Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto il tutorial Molto semplice Scusate se nello scorso episodio non avevo spiegato molto bene il gioco Ma avevo preso dalla furia di giocarlo che non riuscivo manco a tradurre Però questo gioco in inglese è abbastanza Cioè perchè ora non è che sia bravissimo a inglese io Per cui Questi tre si alza non so che cosa sia Per esempio Stanno tra me e il contenuto di questa scatola Ah bene Ah devo mettere le chiave Ah questo c'è una lente ora Sì perfetto Pensavo di cos'è Un piatto con un simbolo dell'occhio diverso Non sembra buona Sì Eh vabbè Cos'è questo? Ah l'aiuto Eh vabbè L'avevo notato anche io sti numeri Aspetta ma qui se non sbaglio si potrebbe aprire Eh infatti me lo ricordavo che questo Un po' un pelo eh Però che cazzo sto aprendo scusa What the fuck? Mi è sul testo Ma si può svitare Eh la madana ma ti droghi Aspetta però qua c'è scritto qualcosa Sette Zero due setto cinque zero due sette Grazie Due sette Proviamo a fare il contrario Oddio Oddio ho visto sta linea e me l'ho detto ma che cazzo Eh Eh Nooo se serio Droghi Se serio questi droghi Un Oh Una chiave La madana Ok Poi qua vediamo Qua Qua Questo Questo Eccola eccola questo 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 punto gli altri due li devo trovare Mmm Però questa mi sa che la devo mettere Ok quello ho deciso di farlo eh Eh Ma altro Ha il simbolo cerchiato ok Quindi c'è un altro di simbolo in alto a sinistra Questo 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 punto che sto a caso Ah era questo perfetto Ok una chiave un po' meglio Se così posso dire Proviamo a vedere Ah no aspetta però Qua posso cliccare e vederlo da più vicino e quindi vederlo anche sotto La dana Quanto tempo ho perso questa cagata Va bene insomma Non so C'è due Due Sette Cinque Sei Oh mamma mia ce l'ho fatta Non ci posso prendere Oh mamma mia ce l'ho fatta Ah una leva E la madonna ma ti trovi Aspè aspè a me sicuramente ci ha messo questo ok mi sa che mi serve un cacciavite questo lo posso aprire? no qua c'è qualcos'altro ok questo lo posso aprire qui mi sa che ci ha messo questa e infatti ho in giro ok e l'ho messo in funzione poi ah qua sopra che c'è aspetta c'è una A febbraio febbraio 11 febbraio però qui posso fare un'altra cosa qui cosa c'è? smells of burning questo lo posso girare oh spetti 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 si ha questo oddio non mi di nooo ti droghi ma ti droghi tantissimo ma dai ma sei a me vabbè adesso penso che ti posso dare poco eh oh ho fatto e la madana ti fa bruciò questo adesso che è successo? non lo so perché? oddio addio aspetta 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 io ora posso vedere qualcosa senza ammi vedere oh cos'è? and 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 there's more to that than I saw would I peace revel anything vediamo trial 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 provalo oh no 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 ti droghi vabbè aspetta ma se io no 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 ma ti droghi com'è questo? no ah così no di sicuro forse è così non può essere così è così è così eccole questi no minchia ci ho fatta oh si è aperto questo l cosa devo metterla qua sconnetto e qua ci devo scrivere trial sconnetto e ci devo scrivere trial eccolo sapevo io eh ma troppo possibile che mi è messo oh si è chiudo ah mi sono toccato quello perfetto perfetto che si è attenzione Grazie a tutti